Il prossimo premiato è Vincenzo Pepe, prego Vincenzo, salve, molto piacere, chiamo il premiante Gianpaolo Cirillo, presidente del Consiglio di Stato, prego, un grande applauso, una foto? Grazie mille, grazie infinite Gianpaolo, è stato molto gentile, grazie, arrivederci, salve Vincenzo Pepe è un genius loci, è uno spirito dei luoghi e da anni vive nel Cilento ed è un amico del Cilento è un cittadino felice che non vorrebbe vivere altrove e ha avuto la fortuna di muoversi fra Perdifumo, Vatolla, Agropoli e Castellabate, dove ha trovato il suo ubicon system. Da lì gli è più facile esprimere la sua attività pubblica, dedicata alla promozione dello studio in ogni sua forma e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale campano, che ha il suo più alto riferimento in Giambattista Vico, di cui Pepe presiede la fondazione che ha sede a Vatolla. Nella perfezione del pensiero e dei luoghi c'è un mistero glorioso che anima Pepe e attraverso il movimento Fare Ambiente lo induce a combattere ogni aggressione alla bellezza come un dovere morale. Il premio va al Genius Loci del Cilento.